Prego. Benvenute e benvenuti a tutti, io sono Ketty Carraffa, abbiamo in collegamento questa sera veramente una bella rappresentanza dal Venezuela, naturalmente c'è Daniele Marconcini di Lombardi nel mondo, io sono qui per cominciare, quindi per introdurre questo nostro incontro per Mimosi Time e Lombardi nel mondo, questa sera parliamo di Venezuela, quindi di quello che sta accadendo, la situazione sociale e politica in questo momento. Abbiamo in collegamento quindi con il Venezuela, abbiamo quindi Estevan Tamburrini che è un politologo e Sevi Dicione che è invece coordinatore Voluntad Poplar in Italia. Vi direi di partire subito con Estevan perché così almeno lui è in Venezuela, ci comincia a raccontare che cosa sta succedendo e com'è effettivamente la situazione attuale. Prego Estevan, benvenuto qui a Mimosi Time e Lombardi nel mondo. Grazie, grazie Ketty. Infatti ti premetto solo una cosa, io sono stato presente in Venezuela fino al 2016, dopodiché sono rientrato in Italia, anche a partire dall'anno in cui sono state chiuse tutte le strade democratiche intorno alle quali, diciamo, in base a una competizione un po' svantaggiata. L'opposizione poteva un po' giocartela e cercare di allocare delle cariche pubbliche all'interno del contesto istituzionale venezuelano. L'ultima occasione è stata nel 2015, proprio in quel 6 dicembre 2015, quindi pochi giorni fa, abbiamo compiuto circa cinque anni da quel momento in cui l'opposizione, nonostante gli svantaggi, nonostante le diseguaglianze in base alle quali il regime di Maduro cercava di ottenere più voti, ma anche attraverso una propaganda, anche attraverso delle pressioni un po' diciamo scorrette, anche troppo scorrette nei confronti della pubblica amministrazione, dei funzionali pubblici, nonostante in quel momento si è unita tutta la società e siamo riusciti a ottenere un risultato di oltre il 56% dei voti che hanno rappresentato, diciamo, in termini di seggi circa 112 su più o meno 160 seggi in totale all'interno dell'Assemblea Nazionale. Dopo di questo evento, in un momento in cui c'erano dei prigionieri politici, c'era già comunque Leopoldo che oggi è in esilio ed era in fase di prigionia politica, un centinaio di ragazzi e attivisti erano sempre nelle prigioni del Sebbin sotto tortura e anche sotto costanti vestazioni ogni volta che la pressione internazionale arrivava, diciamo, poneva il fiato sul collo sul regime. In questo momento, diciamo, tutti i settori si erano uniti, facendo subito questa premessa storica per poi capire il perché siamo qui. Allora, chiariamo un attimo. C'è stato il periodo di Chavez, due mandati presidenziali, poi Chavez muore, vengono nuove elezioni. Questa elezione, diciamo, emerge un nuovo leader che sostituisce come proseguimento della presenza nociavista che è Maduro. Ci sono queste elezioni nel 2015 dove la rappresentanza dell'opposizione va in maggioranza con l'Assemblea nazionale. Esatto. In quel momento lì però c'è un'inversione, diciamo, di tendenza, anche in un rapporto difficile tra chi governava e l'opposizione. Da questo momento c'è stato, diciamo, un abbandono del fronte democratico nella partecipazione alle elezioni, anche perché Maduro ha indetto delle elezioni considerate illegali, giusto? Correto? Beh, diciamo che soprattutto, cioè questo è lo spartiacque, il 6 dicembre 2005 si viene a formare uno spartiacque in cui il regime e soprattutto i suoi accoliti si accorrono che non basta più, diciamo, un certo vantaggio a livello economico, istituzionale e anche comunicazionale per evitare che in qualche maniera l'opposizione ottenesse la maggioranza. Dopodiché iniziano a suscitarsi alcune pressioni come alcune dichiarazioni da parte del Tribunal Supremo, da parte della Corte, allora Corte Suprema di Giustizia, sostituendosi gradualmente alle funzioni dell'Assemblea nazionale fin quando, qualche anno dopo, nasce l'Assemblea nazionale costituente, non elettiva, attraverso cui Maduro ha cercato di soppiandare l'Assemblea nazionale e quindi sostituendo tutte le funzioni che allora l'opposizione aveva certamente da esercitare attraverso i deputati, attraverso la maggioranza come la funzione legislativa, eccetera, eccetera, eccetera. Il regime ha preso anche questa fetta di potere in maniera legittima. Nel frattempo proseguivano le persecuzioni, stiamo parlando poi del 2017, anno in cui lo stesso Juan Requesens, un leader sudesco, viene imprigionato e un'altra valanga di proteste per contestare anche la chiusura delle vie democratiche, faccio un panaparentesi, poco prima c'era stato il tentativo di portare avanti il referendum attraverso la raccolta firme. Una volta raccolte le firme lo stesso Consiglio nazionale elettorale, che è la prima autorità elettorale del Venezuela, aveva detto di no. Si dà il caso che il Consiglio nazionale elettorale sia composto in pienetta nella sua località da membri istituzionali del regime. Per inquadrare le notizie che poi ci arrivano dall'Italia, tutto questo ha comportato poi uno scontro istituzionale che ha portato a quello che vediamo oggi una grave crisi economica, una diaspora del popolo venezuelano. Si parla, mi sembra, di quasi 5 milioni di persone, dai 3 ai 5 milioni sono andati via. Oggi quella fetta lì rappresenta più del 13% della popolazione, perché nel frattempo le persone perdevano le speranze. L'inflazione aumentava a tripla cifra, a quadrupla cifra, a testupla cifra, fino ad arrivare praticamente al milione per cento di inflazione indorno al 2018. Dopodiché, non essendoci più speranze, diciamo a livello comunque democratico, molte persone hanno scelto di andare via, ma andavano via a partire già dal 2014. Puoi darsi un dato, un numero di quante persone sono andate via? Troviamo venezuelani dall'Argentina, il Costa Rica, Panama, in Italia. Diciamo che le prime destinazioni sono sempre quelle dell'America Latina, oltre agli Stati Uniti, perché l'America Latina rimane comunque quella più accessibile, la rossa più accessibile, tanto è che qui si parla della rossa dei Balcani, della rossa del Sara, per parlare delle migrazioni che arrivano in Italia. Nel frattempo, lì si è aperta la rotta delle Americhe, attraverso cui molti venezuelani partono in autobus o a piedi, pur rischiando la vita, arrivando persino alla Bolivia o fermandosi nel Perù, o piuttosto, diciamo, fermandosi nel Cile, che è una delle mette più ambite. Nel frattempo, molto spesso, vanno anche a nord, cercando di costituirsi alla stessa patrolla, alla polizia di frontiera degli Stati Uniti e cercando di richiedere lì l'assilo politico e di rimanere. Altri, quelli che hanno un po' più di possibilità arrivano in Italia, in Spagna e in Stati con cui hanno qualche legame con i parenti, qualche legame matrimoniale e riescono a starci. Diciamo che sono più di 5 milioni, come hai detto su, si parla della seconda crisi migratoria più acuta dopo quella dei siriani. Quindi abbiamo comunque una vera crisi umanitaria, in una cornice in cui ci sono oltre 4 milioni di malnutriti, oltre 7 milioni di persone che comunque sono in condizioni di precarietà e il 94% della popolazione che vive in condizioni di povertà, secondo l'ultimo racconto. Ecco, volevo passare la parola a Sevi. Sevi, noi abbiamo sempre seguito le vicende sudamericane, una vicenda abbastanza simile, anche se c'era una vicenda con una presenza armata. Parliamo della Colombia. Se c'era un paese dove sembrava impossibile creare una sorta di pacificazione nazionale, era la Colombia, no? Un fronte armato. Io quando ero in Venezia nel 2007 c'erano i colombiani dell'M16 che erano riparati sotto Chavez. Come mai questa frattura, diciamo, non riesce a comporsi in un modo pacifico tra il fronte legato a Maduro e il chavismo e il fronte democratico? Come mai questa divisione non viene composta dall'interno ma sembra che si voglia delegare all'esterno? E questo ha comportato poi l'arrivo delle potenze straniere, i cinesi, i russi, magari anche gli Stati Uniti. Cioè, parliamo del popolo, del popolo diciamo venezuelano e delle forze politiche dentro il Venezuela. Non è possibile una composizione secondo te? Qual è la soluzione dopo una crisi che meno male tutti perdono e il popolo perde in questo momento e soffre? Sì, è una soluzione negoziata e si è già visto che non è possibile perché una volta e un'altra e un'altra ancora ci sono stati tentativi di dialogo. Ogni volta che si comincia ad arrivare a qualcosa tutto ciò che gli si propone al regime non lo accettano. L'ultima volta che è stata, chissà, quella che siamo stati più vicini è stato con il dialogo di Oslo che poi si è trasferito nelle isole Barbados e alla fine quando sembrava che forse ci poteva essere qualcosa, la gente del regime si è alzata e ha detto di no e se ne sono andati. Quindi il problema in Venezuela, quello che noi diciamo sempre, iniziando per il fatto che non è che si parla di un problema di sinistra, di destra, è un regime criminale. È un regime criminale che hanno saputo fare nel senso di prendersi dalla parte loro i militari, quindi con questo hanno le armi. In 21 anni hanno messo la loro gente in tutti i posti più importanti, come diceva Stefano, la Corte Suprema di Giustizia è tutta loro, il Centro Nazionale Elettorale è tutto loro e praticamente ogni organo pubblico è tutto loro, sono tutte le persone loro. Però mentre prima Sevi c'era il petrolio, il petrolio era diciamo l'elemento che finanziava un po', diciamo, finanziava e orientava la politica, ma in questo momento il Venezuela che non produce petrolio, che da paese produttore è rimasto senza benzina, che ogni tanto arrivano delle navi, c'è stato il periodo di Sabade, arrivano delle navi dal Brasile, adesso addirittura dall'Iran. Ma in questo momento dove il petrolio non è più l'elemento che finanzia questo interesse internazionale, che poi è un interesse che ha impedito poi anche la riconciliazione, il Venezuela in questo momento che ha un'economia che è in ginocchio, secondo te quali possibilità ci sono di un'inversione? Perché se alla fine non girano più soldi, non c'è più il Il problema è che il petrolio c'è, ovviamente, e l'oro perché non hanno avuto, non c'è stata manutenzione, non c'è stato niente da 3 milioni e 200 barilli che si facevano al giorno, adesso siamo arrivati, mi sembra gli ultimi numeri, e correggimi Stefano se sbaglio, sui 300-400 mila al giorno siamo più o meno. Questo per la mancanza di manutenzione, mancanza di rinvestimento nei pozzi petrolifici. I soldi adesso da dove vengono? L'Amazonia la stanno distruggendo completamente. Perché fortunata e sfortunatamente Venezuela è una nazione ricca non solo di petrolio. Mi sembra che delle riserve di oro siamo al secondo o al terzo posto al mondo di riserve di oro. Quindi se vuoi poi ti faccio perché parliamo sempre con Americo De Grazia, che mi sembra che lo conosci, Daniele. Lui è il commissionato presidenziale per l'arco minero e l'ambiente. fotografie satellitali, tutto ciò che stanno facendo nell'Amazonia per ricavare l'oro, per ricavare il coltan, che è anche adesso questo oro nero prezioso, stanno distruggendo tutto. L'oro del sangue lo chiamano e cercano di lavarlo verso la Turchia, verso l'Iran e da lì prendono un sacco di soldi. Poi c'è anche il fatto che non è che si presume che è un fatto provato e si chiama questo regime un narcoregime, cioè ci sono le droghe, ci sono soldi che arrivano, tanti soldi che arrivano dappertutto. C'è la parte triste che loro dicono sempre che adesso non c'è da mangiare, che tutto sta male in Venezuela e l'economia per tutte le sanzioni e che hanno bloccato tutto. Però quando devono comprare mezzi, quando devono comprare armi, roba che interessano loro, i soldi ci sono sempre. Ho capito. Allora passo la parola a Stefano. C'è stata una presa di posizione dell'Europa, dell'Unione Europea, ci sono state prese di posizione di moltissimi paesi, eppure la pressione internazionale non ha cambiato le carte in tavola. Ci sono praticamente, dicono consulenti russi, c'è stato un grande prestito da parte della Cina, mi si diceva addirittura le riserve aure del Veneziano sono state date come garanzia. Qual è l'interferenza delle grandi potenze? Perché a un certo punto hanno dato colore addirittura agli aiuti alimentari, se eravano degli americani non andavano bene, se eravano altri paesi andavano bene. Come mai questa continua interferenza delle potenze, le grandi potenze mondiali? E se è vero anche questo tentativo di golpe che è stato portato avanti dai mercenari americani. Allora, iniziando dall'ultima parte, diciamo che l'episodio, il capitolo dei presunti mercenari americani che provano a fare il tentato colpo in Venezuela, diciamo che questa è una cosa di cui non ci sono tuttora le prove, è stato arrestato qualcuno, inizio da lì, ma comunque a livello di potenze vedo che in ogni caso si è puntato, parlando dell'Occidente, spesso su un regime sanzionatorio che però rischia comunque di arenarsi. Una volta che le sanzioni infliggono certamente sulle personalità attenzione e non sulle casse dello Stato, diciamo che loro tendono però ad arroccarsi spesso. Ma quali sanzioni sono state applicate? Tanto per capire noi che... Beh, diciamo che dal 2014 in poi, dalle manifestazioni che sono sorte poi nel febbraio del 2014, poi in quelle del 2017, ogni volta che c'è stato un colpo contro la democrazia, spesso con l'instaurazione di un'assemblea nazionale costituente, fa sulla, senza alcun sostegno popolare, fino ad arrivare alle ultime elezioni del 6 dicembre per la continua violazione dei diritti fondamentali, spesso la Commissione europea o anche gli Stati Uniti d'America. Ma alla loro volta le Nazioni Unite stesse o l'organizzazione degli Stati americani procedono ad applicare sanzioni mirate, come accadeva con l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea, nei confronti degli alti funzionari del regime che sono complici o fautori diretti di queste violazioni. Nel frattempo però abbiamo visto un'espansione in atto sin dal 1999. Diciamo che comunque la cosa ritorna molto indietro nel tempo, quando nel 1900, sì, prima di essere Presidente, nel 96, anche un po' dopo, ci avete fa visita alla Cuba. Diciamo che il suo movimento però era nato ancora prima, negli ultimi anni 80, quando il movimento bolivariano-revoluzionario si fonda, 2200, si fonda proprio in quella, in in quel pezzo di frontiera tra Apure e il Venezuela, in cui Chavez allora prende contatti con questi uomini delle parche. Lì inizia certamente un connubio che lo pone direttamente in contatto pian pianino con Peter Castro e dopo il tentato-golpe ancora di più con contatti stretti della sinistra del foro di Sao Paulo in America Latina, ma poi si va più avanti. Perché? Perché sin dai primi anni 2000 Chavez disse nel primo incontro, nel primo vertice con la Cina, Dio ha voluto che tutto il petrolio di cui ha bisogno la Cina fosse presente nel Venezuela. Poi da lì si è cominciato a spostare facendo i primi accordi di importazioni di armi con la Russia e così ha voluto rappresentare una certa antitesi, ecco, all'ordine liberale. Però in Colombia c'è stato un ruolo della Chiesa, no? C'è stato Enunzio Parolin, no? Il nostro ministro degli esteri del Vaticano è intervenuto. Cioè come mai lì la Chiesa non è intervenuta in Venezuela facendo una mediazione? Tu sai che la Chiesa, ad esempio, contro anche la politica degli Stati Uniti è andata a Cuba, ha sempre cercato un ruolo di mediazione. Come mai lì la Chiesa non interviene o non riesce a avere voce in capitolo? Diciamo che sono situazioni assolutamente diverse dal momento in cui in Colombia comunque si erano in qualche modo esaurite le ostilità e buona parte delle FARC, purtroppo ancora armate, si trovano nelle Venezuela. Ma abbiamo una situazione in cui le ostilità non si sono esaurite dal momento in cui le aggressioni continuano e si mantengono in parallelo anche ai dialoghi, ai tentativi di negoziato che purtroppo si sono avviati dal 2014. Il problema è uno, è che se una delle parti prevale nel confronto armato di fronte all'altra parte, mentre una è costretta a cedere, che è l'opposizione, che molto spesso deve cedere comunque alle pretese, e l'altra non cede mai perché si impone attraverso il sangue e la soprafazione, vediamo che è molto difficile comunque trovare un accordo di pace perché l'eventuale pace, come quella che si è vissuta in questi ultimi mesi, è la pace dei cimiteri, in cui uno vince, si sovrappone, però nega l'altro. Come diceva Francesco poco fa, all'intervento all'Università Roma 3, la guerra inizia proprio dentro di noi quando noi neghiamo l'alterità e qua purtroppo in Venezuela c'è una negazione piena dell'alterità. Come diceva Sevi, quello che accade poi nell'arco minero ne è l'esempio migliore perché lì vengono uccisi quotidianamente degli indigeni costretti a estrarre del loro per poi consegnarlo ai militari che però non riconoscono ai piccoli minieri alcun ruolo. Bene, passiamo a Sevi. Sevi, noi abbiamo visto prese di posizione dell'Unione Europea, tanti atti di simpatia, no? Tanta attività, però io quando ho parlato anche con il Ministero degli Esteri, al di là delle prese di posizione politica, tutti hanno suggerito, diciamo, tutti i funzionari con cui ho parlato, una certa prudenza anche negli aiuti umanitari perché è molto difficile avere, diciamo, un rapporto anche con le autorità. Quindi, tu che sei adesso in Italia, cioè come vedi le azioni concrete? Perché noi abbiamo visto che c'è un'opposizione, però un'opposizione, diciamo, all'estero che magari è molto più evoluta, no? Molto magari anche più politicizzata. Però vediamo una grave difficoltà nell'organizzare, diciamo, delle azioni concrete, anche da parte dei governi. Qual è la tua impressione, la tua esperienza nei rapporti, diciamo, con l'Italia, con l'Europa, anche con il Venezuela e anche con il mondo, no? Dei venezuelani, la diage? Sì. Allora, prima di rispondere volevo soltanto di ciò che chiedevi prima. La Chiesa si è stata coinvolta in una delle tante negoziazioni in Venezuela, c'era anche, se non sbaglio, Monsignor Parolin e la Chiesa stessa ha detto, e qui non c'è niente da fare, di fatti cercherò il documento, però praticamente che il regime non aveva nessuna intenzione di andare avanti. Questo l'ha detto la propria Chiesa, che poi quando l'hanno tornata a chiedere per il prossimo dialogo hanno detto, la Chiesa non ha voluto partecipare perché hanno detto noi ci siamo stati e voi non avete voluto andare avanti. Della domanda che mi hai fatto, senti, la posizione dell'Italia è strana. Io parlo da venezuelano, sono parte della rappresentanza dell'Assemblea Nazionale e del governo ad interim qui in Italia, sono il vice rappresentante, diciamo, la rappresentante sarebbe la diputata Mariela Magallanes. Però parlando anche come italiano, perché i miei genitori sono italiani, è un po' molto famale la posizione dell'Italia. Però adesso, parlando un'altra volta come venezuelano, la posizione oggigiorno è un po' diversa a come era due anni fa, quando a gennaio del 2019 si portò nella Camera dei Diputati per votare e hanno deciso di votare di non riconoscere più Maduro, di riconoscere l'Assemblea Nazionale come unico organo legittimo, però di non riconoscere a Juan Guaidó. Al momento erano ovviamente la Lega con 5 Stelle quando si prese questa posizione, ora governo sono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, abbiamo avuto un sacco di incontri anche al Ministero dell'Estero con diverse persone e anche se il governo non ha preso una posizione netta ancora, la posizione oggigiorno è molto più a favore nostro di quanto poteva essere due anni fa. Di fatti, con il gruppo di contatto all'Unione Europea, l'Italia adesso si vota sempre a favore delle sanzioni, quando sono sanzioni, adesso c'è stato il fatto delle elezioni della frode del 6 dicembre, l'Italia insieme agli altri paesi dell'Unione Europea hanno tutti votato che non si... Spiega bene cosa è successo il 6 dicembre, perché c'era stata una parte dell'opposizione che aveva invitato a partecipare al voto, c'era un ex leader dell'opposizione, invece Guaidó ha invitato il fronte democratico a cui tu appartieni, ha invitato a disertare le urne. Come è andato il 6? Perché Luciano mi ha informato, io ero arrivato a 25 paesi che non hanno riconosciuto il voto, Luciano mi ha aggiornato, ti farò parlare alla fine Luciano, 45 paesi non hanno riconosciuto il voto in Venezuela. Cosa è successo il 6 dicembre? Vabbè, cosa è successo prima per arrivare al 6 dicembre? Allora, il regime ha voluto avere queste elezioni legislative, le elezioni che ci dovrebbero essere in Venezuela innanzitutto sono presidenziali, perché non c'è presidente dal 5 gennaio 2019. Comunque, adesso a dicembre ci veniva l'elezione per eleggere la nuova assemblea nazionale. Il problema è che in Venezuela non ci sono le condizioni, questo chiunque non conosce tutto cosa sta accadendo in Venezuela, allora non si accetta osservazione internazionale che è necessaria. Quasi 6 milioni, prima parlavate di quanti, sono sui 5 milioni e mezzo, quasi 6 milioni di venezuelani che sono adesso diaspora. Questi sono persone che hanno il diritto di votare e invece il regime non li vuol far votare. Quindi... Poi è vero che quelli che sono fuoriusciti dal Venezuela quando rientrano gli tolgono il passaporto o comunque vengono quasi schedati, no? Vabbè, non direi... forse c'è stato qualche caso, non potrei dire che questo è quello che fanno sempre e sicuramente se andrei io me lo farebbero, però so di molti venezuelani che vanno in Venezuela a visitare e poi possono uscire senza nessun problema. Vabbè, prima del Covid, perché adesso col Covid tutti gli aeroporti sono chiusi, l'aeroporto è chiuso, tutti gli aeroporti sono chiusi, l'aeroporto internazionale l'hanno appena aperto, permettono soltanto viaggi all'Iran, Turchia, Cuba e mi sembra Repubblica Dominicana, questi quattro paesi, del resto è nient'altro. Tornando alla comunità europea, no scusa, tornando al 6 dicembre, allora questi volevano fare lezioni perché il mondo democratico ha scelto di riconoscere l'attuale Assemblea nazionale come unico organo legittimo, non riconoscono Maduro. Quindi loro pensano che se noi prendiamo l'Assemblea nazionale, allora saremmo noi riconosciuti. Molti dei soldi che sono stati presi, che sono stati tolti al regime, che sono tutti congelati, l'oro in Inghilterra, Sitgo, Monomeros, un sacco di aziende grandi, che questi soldi noi dell'opposizione non li possiamo usare, però sono soldi che sono lì congelati per il giorno che qualsiasi cosa. Il regime pensava che prendendosi l'Assemblea nazionale prenderebbe legittimità. Invece non è stato così. C'era qualche oppositore che chiamava a partecipare, questi oppositori sono gli stessi che a maggio del 2018 sono voluti andare con Maduro alle elezioni presidenziali, quando tutti quelli dell'opposizione dicevano no, questa è una frode, si parla di Claudio Fermin, Henry Falcone, sono gli stessi e le stesse persone. Quindi questi qua non si potrebbero, non si dovrebbero considerare opposizione, perché sono persone che stanno lì col regime. Una persona che ci ha preso di sorpresa è stata Enrique Capriles, che è stato un leader dell'opposizione grande, due volte candidato a presidente, penso Stefano pure, tutti i venezuelani democratici, tutti l'abbiamo sostenuto. E lui invece quando trenta e tanti, quasi quaranta partiti dell'opposizione hanno detto non parteciperemo. Lui ha preso e ha detto io partecipo e ha cercato di cominciare a parlare con Joseph Borrell, perché Borrell l'ha detto che ha anche parlato con Capriles, ha cercato di parlare con diverse persone per dare un senso di legittimità a queste elezioni. L'idea era che l'Unione Europea andasse a servire da osservatore internazionale. Alla fine, quando sono andati gli europei in Venezuela, hanno visto che non c'era né il tempo né il modo di fare l'osservazione, hanno detto noi non la facciamo. A quel punto anche Capriles ha detto, no, senti, con le elezioni così non partecipo. Anche lui se n'è uscito e lui che voleva partecipare, adesso questi ultimi due o tre giorni lo senti parlare che quello che c'è stato il 6 è stata una frode. Quanti sono andati a votare? Si parla del 25%? Allora, bisogna vedere a chi si crede. Dell'opposizione che aveva gente dappertutto e ha portato dei calcoli, si calcola tra il 9 e il 15%. Il regime dice che il 31%, c'è stato il 69% di estensione, che a dir la verità onestamente, il fatto che il regime possa riconosca che soltanto un 30% è andato a votare è una cosa vergognosa, che mi fa pensare che quindi veramente sicuramente è stato soltanto un 9%. Poi tra l'altro ci sono delle immagini, delle registrazioni, video, in cui loro, diciamo per cercare di fare un po' di propaganda giustamente, facevano fare ai loro sostenitori la fila, una fila, diciamo, davanti a un centro elettorale, fittizia, dopodiché finite le registrazioni questa fila si scioglieva di nuovo. Quindi sì, anche, confermo quanto dicesserevi, perché anche le testate europee, una come DW, che è quella tedesca, molto molto imparziali, dicono che l'astensione è andata oltre il 60%. Perché? Stephen, però detto questo, noi in Italia ragioniamo, diciamo, in modo un po' novecentesco, destra, sinistra, e giustamente, come dice Servi, poi anch'io, quando sono andato in Venezia e in Sud America, i concetti di destra e sinistra europei non sono applicabili in America Latina, no? E beh, qua il problema è che sono saltati. Allora, però, detto questo, noi abbiamo discusso, tra l'altro Stephen è diventato un nostro associato, abbiamo discusso però come viene presentata a volte la situazione in Venezuela, dalla comunità venezuelana all'estero. Io ho avuto anche un problema con una signora che si considerava vicino a un partito politico italiano in cui, da una parte, vediamo che c'è un'opposizione che cerca dei contatti, no? Quasi per assimilarsi a chi è magari al governo italiano. Altri che invece riportano, no? Le divisioni o comunque la composizione, no? Partiti venezuelani in Italia. Allora, l'interpretazione di uno come me, come Ketty, no? Che uno deve dare la vicenda, no? Venezuelana, no? A parte che c'è un'oligarchia e quindi quello l'abbiamo capito. Qual è il modo, secondo te, per spiegare agli italiani che sono presi dalla pandemia e da altri problemi o comunque agli europei? La situazione venezuelana è come tu sai come si può interessarli a questa vicenda, no? Infatti stiamo discutendo, sul discorso Polonia, no? Ungheria, no? Che non vogliono aderire al Recovery Fund, adesso sembra che abbiano trovato l'accordo. Allora, non è una cosa semplice per noi italiani che abbiamo problemi capire i venezuelani e come pongono la questione. Aggiungo benissimo anche la presenza cubana. Ero in una chat, c'è stata una polemica enorme per i medici cubani arrivati in Italia come se l'Italia non avesse fatto un accordo quasi politico. Spiegaci come la vedi tu. Sì, prima voleva intervenire il signore di Caracas, cappellino, quindi se voleva dire qualcosa nel frattempo, non lo so. Volentieri. Diciamo che la situazione venezuelana ormai sta diventando quasi una situazione simile a quella dello Zimbabwe, io credo. Cioè, abbiamo una situazione dove si perpetuano il potere all'infinito. Purtroppo Mugawe, bene o male, è anche morto il potere. Praticamente. Per cui non è assolutamente gestibile fare dei paragoni col sistema europeo perché non sono possibili. In più è un paese che ormai è completamente deistituzionalizzato. Per cui c'è una dollarizzazione assoluta dove addirittura il costo della vita in certe cose ormai è anche il doppio rispetto a quello che può essere un paese normale. Cioè, c'era, non so, uno vada a fare una risonanza magnetica di 500 dollari, cosa che in Italia, anche se vai come solvente, paghi 100 euro, 120. Cioè, la gente non sta più in piedi. Quindi è tutto strisciante, non esiste più la fatturazione. Tutto gira in contanti in nero. Perché è un paese africano, ma siamo tra la Somalia e lo Zimbabwe, sotto certi aspetti. Quindi, in più, il tema delle elezioni sono state senz'altro una frode, ma io penso che c'è più che una frode, pilotate dal governo in maniera tale che l'opposizione non partecipasse. Agli effetti loro non gliene frega assolutamente niente, perché hanno detto noi siamo stati. Alla fine avranno messo un paio di milioni di voti in più, come le hanno messe in tutte le altre elezioni. E quindi a questo punto, invece di cinque che hanno dichiarato, sono stati tre, probabilmente quindi sarà stato il 18 o il 15, ma cambia molto poco. Quello che cambierà è il 6 di gennaio, perché io credo che il 6 di gennaio qualsiasi deputato attualmente in carica dell'attuale Assemblea nazionale può prendere il primo aereo per prendere cinque posti aperti, tra cui c'è anche Panama, Panama, Repubblica Dominicana e dove sia, o il 6 di gennaio deve dire io sono decaduto, perché se rimane qui se no lo arrestano per sedizione. Alla fine, vediamo un esempio vicino europeo, i catalani hanno dichiarato che se ne andavano dalla Spagna e Puigdemont esule quello che sia in Belgio, sperando di non essere stradato, perché qualsiasi dei deputati che dica no, io sono ancora in carica, viene arrestato per sedizione il giorno dopo, perché gli attuali governanti qui dicono questo qui, con che diritto disse di essere ancora deputato. E 50 nazioni in giro per il mondo dicono ancora che funzioni, senz'altro. Ma i venezuelani il problema se lo devono risolvere da soli, anche beh, dubito che ci sarà mai. Allora, Sevi, domando a Sevi, come mai gli Stati Uniti, anche con Trump, che ha avuto, diciamo, ha fatto delle prese di posizioni così forti, non sono mai intervenuti direttamente con Venezuela, no? Sì, poi Daniele volevo anche rispondere alla tua domanda, ma aspettiamo Sevi, perché sì, è molto interessante la domanda di prima del comunicare all'Italia, cosa si vive in Venezuela, però andiamo a cosa viste. No, no, fai pure te, non è un problema. Rispetto al partito o comunque a quello che riguarda un pochino, come diceva Daniele, no? Perché in effetti noi in Italia ragioniamo in un altro modo, forse magari ancora un po' troppo partiticamente, più che politicamente. Quindi ad esempio uno che pensa a Guaido pensa assolutamente a uno di destra, no? Qui in Italia. Diciamo che di destra. Nell'immaginario collettivo accade questo. Nell'immaginario collettivo si vedono... Per me, ma due di finista. Vorrei aggiungere una cosa. Aspetta un attimo, scusa Luciano, un attimo, che facciamo il giro. Allora... No, no, è molto... Scusami, Daniele, una cosa che voglio sottolineare. Non si può parlare del Venezuela senza parlare del Brasile, che sarebbe la Germania del Sud America e della Colombia. Senza questi due items, gli Stati Uniti non si muoveranno mai verso Venezuela. Questo è il punto. Ricordo, e qua chiudo, poi parlerò di altre cose, che dal tempo di Chavez ci sono 30 milioni di dollari in mese di petrolio che andava all'esercito americano, anche con Maduro. Ma perché? Perché il petrolio venezuelano... è difficilissimo da raffinare. E l'esercito americano ha le raffinerie. Non è vendibile completamente. E, chiudo la parentesi, Cuba gestisce i servizi segreti e l'anno scorso, nonostante la fame, la crisi e tutto quanto, Maduro ha regalato il valore di un miliardo di dollari in petrolio a Cuba. Chiudo. Ma Cuba è il più povero del mondo, Daniele, non c'è. E, comunque, la questione riguarda il fatto che qua, spesso, che avete stato visto anche come una specie di Nasseri in Egitto che aveva sfidato lo strapotere americano, e diciamo che è un'egemonia che spesso è stata anche discutibile, no? Per il proprio agire, per cosa è accaduto qui in Italia negli anni di piombo. E, molto spesso però, ci dimentichiamo l'elemento essenziale, storico anche che caratterizza il Venezuela, che è lo stivale militare al potere a discapito della società civile. Diciamo che un primo tentativo, accenno di Repubblica Civile, è nato nel Venezuela e si è interrotto dal 1945 al 1948. Dopodiché abbiamo avuto, di nuovo, questo passaggio di regime di Marcos Perez-Simenes, iniziato anche con Ciavod, che era un altro militare, insieme a un civile di cognome Flameric, che non riusciva comunque a gestire nulla, e che è durato fino al 1953. Da lì al 1999 c'è stata una parentesi in cui, diciamo che i due partiti che erano sopravvissuti, uno praticamente in esilio, azione democratica, e un altro, che era Copei, e poi Unione Repubblicana democratica, che era un terzo partito di minoranza, hanno fatto una specie di convenzio ad escludendum per far sì che i moderati rimanessero al potere, diciamo nel tentativo di costruire o fare una specie di tessuto civile all'interno di una Repubblica che era sempre stata oppresa sin dalla sua scissione dalla Grande Colomia nel 1816 a quel periodo lì. Purtroppo è accaduto che quel processo di democratizzazione però non è riuscito ad attecchire in tutto il tessuto sociale del Paese, oppure diciamo che l'ha fatto fino a un certo punto in cui però è andato esaurendosi, perché poi quella classe dirigente che aveva combattuto la dittatura di Pere Jimenez era però, diciamo, era invecchiata, non c'era stato un ricambio generazionale, poi Cavezze è arrivato di nuovo con la solita promessa e attenzione, e attenzione perché qui vediamo delle analogie con l'Italia, di imporre ordine, di friggere le teste dei corrotti e poi anche, diciamolo, con una certa xenofobia molto spesso applicata nei confronti dei figli di immigrati italiani e vediamo quando nei primi anni 2000 ci sono state purtroppo le salme di Rosina di Brino nel 2006 nel lago di Maracaibo dopo essere stata rapinata e anche dei fratelli Fadul, sempre nel 2006, tre figli libanesi che erano però venezuelani, ma siccome lo straniero era percepito come l'ebreo nella nazi, praticamente nella Germania nazista, era percepito come coloro che erano arrivati qua, si erano presi le nostre donne, si erano presi i nostri soldi, si erano presi tutto e ci avevano lasciato senza niente. Era questa la narrazione che aveva cercato di fare Cavezze al fine di omogeneizzare diciamo, intorno a una certa sagoma mitificata, indigena e altro, la figura del venezuelano. Del venezuelano come una creazione autottona, omogenea, di fronte a cui l'europeo o il figlio dell'europeo era estraneo. Eppure, guarda che li denominavano squallidi, per dire che quelli che avevano la pelle troppo bianca, molto spesso erano estranei a noi, erano l'antipopolo, erano la borghesia. Così si è divisa a metà, o diciamo ancora di più, si è frammentata una nazione e il tessuto sociale poi è stato caratterizzato dalla sfiduccia. Quindi siamo passati da un tentativo di costruire una repubblica civile, fondata sulla fiduccia, a una repubblica militare fondata, tra virgolette, sulla sicurezza, che però non è vero, perché alla fine è uno dei paesi più criminari dell'America Latina, uno dei paesi più insicuri. Diciamo che muore una persona, moriva una persona per rapina ogni 15 minuti, dicevano le statistiche, e c'erano più di 80 morti ogni 100.000 abitanti, secondo la ricercatrice Gallup, secondo questo istituto di ricerca. Ti fermo un attimo sulla politica americana. Sevi, io quando sono andato in Venezuela c'era una fortissima polemica con l'amministrazione americana, però mi dicevano che Chávez faceva ottimi affari invece con le compagnie petrolifere americane, anche con il gas naturale. Abbiamo visto Trump che ha fatto, diciamo, molti proclami contro il Venezuela di Maduro, però alla fine atti concreti, forse anche passato il tempo, dal Chile in poi, degli interventi americani. Qual è la politica americana secondo te? Come è stata e come sarà quella con Biden? Una politica di attesa. Faccio presente che quando c'era la guerra del Golfo, che c'è stata la crisi, poteva esserci una crisi petrolifera, il Venezuela aveva il petrolio lì comodo e quindi non c'è stata, diciamo, un'interferenza come a parole invece si è proclamato. Allora, innanzitutto il fatto dei negozi di Chávez con gli Stati Uniti. All'epoca gli Stati Uniti erano, era l'unico cliente, diciamo, che pagava con tanti e che pagava praticamente tutto. Quindi i soldi che arrivavano, entravano in Venezuela, entravano dagli Stati Uniti. Della politica hai chiesto prima perché Trump non è intervenuto, perché non hanno fatto un'invasione. questo non si potrà mai rispondere, non lo so. Luciano diceva una cosa molto vera, che gli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti che le Nazioni Unite possono dire no ad intervenire un paese, se loro lo vogliono intervenire lo intervengono comunque, gli Stati Uniti non si muovono in Venezuela a meno che ha il sostegno della Colombia e del Brasile. Questo, sono d'accordo con questo. Però, Trump, perché non è entrato? Penso che è un po' nella personalità di Trump. È una persona troppo veloce a parlare e a dire le cose nel modo di dirle. Io guardo più alla politica degli Stati Uniti come governo, è una politica bipartisan, bipartitista, diciamo, entrambi democratici e repubblicani sono d'accordo sul fatto del Venezuela, quindi sulle sanzioni, su cosa si deve fare e non fare. Adesso che arriva Biden cambieranno le cose sì e no, no nella politica in genere degli Stati Uniti, perché come ho detto, questo non è chiaro una politica repubblicana, era già iniziato con Obama. Obama ha iniziato le prime sanzioni contro il Venezuela. Con Biden quello che si aspetta è che ci sia un po' più un avvicinamento col resto degli alleati, invece di quel tono, di quell'atteggiamento di Trump, di si fa così e se non si fa così, che molte volte gli alleati si allontanano un po' e non lo vogliono seguire, con Biden, perché abbiamo già parlato per esempio con esponenti del governo italiano, con esponenti di altri governi e con Biden si spera di poter parlare e procedere a fare cose insieme. Un intervento militare non lo so. Molti dicono che sarebbe l'unico modo di cambiare la situazione in Venezuela. Può essere, come può anche essere, che se i militari, arriva un momento che veramente si girano contro Maduro, i militari dentro, per me la soluzione viene facendo un governo di transizione, dove, e questa è una cosa che molta gente dell'opposizione non piace ascoltare quando uno dice, vabbè, governo di transizione, ci devono essere parti della gente di Chavez, del PSUV e gente dell'opposizione. Anche se a uno non piace, perché sì, uno pensa a questi del PSUV, sono criminali, questo l'altro, non tutti, numero uno. E numero due, anche se non ci piacciono. Cioè è impossibile, nella storia non c'è mai stata una transizione di governo dove tutti questi di una sola parte vengono, perché allora non è una transizione. Quindi per me l'unico modo che c'è speranza per Venezuela è che si mettono d'accordo però della gente di Chavez, del chavismo, che decidono, sai che adesso sì, danno le spalle a Maduro e si può andare avanti con un governo di transizione. Questo se è capito quando si parla di governo di transizione, qualsiasi, perché molte volte molte persone dicono no, perché allora con Maduro qua e là, no, Maduro no, Dio Sadato Caveglio no. Chiunque è accusato di crimini di lesa umanità, chiunque ha, praticamente si sa che è un criminale, questi non possono essere parte. Però si dovrà per forza, per forza cercare di parlare con loro e non dico un dialogo perché se si porta il dialogo ci prendono in giro un'altra volta come l'hanno fatto tanto. Stanno discutendo, no, gli Stati Uniti con i talebani per cui siamo in una situazione di guerra. La Bolivia ha fatto una transizione, stile Bolivia. Sì, volevo tornare a Gianni, perché quello che a me interessa in tutte queste discussioni è la gente comune, no? La nostra posizione come associazione è che io avevo dei chavisti convinti, che a me a Chavez non piaceva, però io sono andato in Venezuela e con l'aiuto di Gianni e di Maria Eugenia Cavazza abbiamo portato degli aiuti ai malati oncologici, abbiamo fatto una missione, penso che quell'anno là nel 2007 eravamo l'unica organizzazione presente in Venezuela, no? È vero. Non c'era nessuno, penso non mi daranno la medaglia, però Gianni mi accolse a Caracas in una situazione da guerra civile, con la Camera di Convento abbiamo costruito un rapporto molto difficile, perché quando con Gianni siamo andati al Ministero, Gianni, se ti ricordi Gianni, lui si è tolto l'orologio e ha detto qui, rapino non solo me, perché eravamo in una situazione veramente difficile anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, no? Ti ricordi Gianni? Assolutamente. La cosa che mi ha colpito però in quel periodo là era la difficoltà nel fare l'imprenditore, allora tua figlia e anche tu avete, l'ho scritto anche nella presentazione del video, avete un'etica di prima di chiudere un'attività pensate alle famiglie, spiegami nella pratica quotidiana che succede a un tuo operaio che viene a lavorare, quali tipi di aiuto ha? Penso che anche qualcuno ti chiede anche degli anticipi, com'è la vita quotidiana di chi lavora e di uno come te che tiene duro, diciamo, a Caracas. Ma sai, è sempre più difficile anche perché lavorando nell'economia formale siamo praticamente gli unici sottoposti a controlli, fatturazione, pagare l'IVA, pagare tutto quello che c'è da pagare e ti garantisco che quando le paghi tutte forse di tasse le dogane, tutte le balzelli doganali, sono forse penso anzi senz'altro più alti che in Italia. Dall'altra parte adesso si è creata un'economia di bodegone, di altre cose, ma per il resto c'è tutto un contrabbando legalizzato, gestito da loro, dove portano di tutto e di più col sistema di door to door, per cui è ridiventata un'economia, è diventata un'economia diciamo di porto di nuovo, quindi Venezuela non produce praticamente più niente, continua a fare l'industriale come me, non so se siamo dei Santi o dei Pirla, probabilmente siamo il secondo caso, anche perché le dati di cofindustria venezolana, cioè di Fedecamera, l'apparato produttivo venezolano ormai è ridotto a meno del 60% di colorazione. Un operario viene pagato in dollari o in Bolivar? Allora, in questo momento le aziende cosa stanno facendo? Premesso che l'iperinflazione continua, ti posso dire che un mese fa, circa 30 o 40 giorni fa il cambio del Bolivar, che ha già dato almeno 8-0 nel corso degli ultimi anni, è passato da 400.000 Bolivar per un dollaro a 1.100.000, che siamo al valore di oggi, quindi gli stipendi vengono polverizzati a vista d'occhio. Cioè il taglio di una moneta cos'è? Il taglio più grosso sono 50.000 Bolivar e quindi sono 5 centesimi, 4-3 centesimi di dollaro. Quindi una montagna di carta moneta? No, ma non ci sono perché non li trovi, perché se vai in banca il massimo che ti danno sono 200.000 Bolivar, quindi 10 centesimi di dollaro, 15 centesimi di dollaro. Il Bolivar sta scomparendo, esiste solo il Bolivar elettronico nei trasferimenti con il banco, ma diciamo, quindi tutti hanno il punto di dedica, ma nessuno ha più Bolivar, perché il problema è che i Bolivar non circolano più. Stavo parlando con un economista la settimana scorsa, che se tu metti, se arrivasse uno, poi chiunque con 200 milioni di dollari in Venezuela raccoglie tutto il Bolivar circolante nel paese. Cioè qui con 200 milioni di dollari fai Bolivar zero. Quindi uno che va in un supermercato, va a comprare qualcosa, come deve pagare? Paga in dollari? Paga assolutamente in dollari, dopodiché, per modo di dire, siccome la dollarizzazione non è ufficiale, anche se i supermercati poi fanno tutti i sistemi loro, cioè ti fanno una fattura in Bolivar che poi la riportano in dollari, è un casino, cioè è veramente complicato, ma in modo di dire, vai con 20 dollari, il conto è 19 e che ti dice, guardi, io il dollaro non ce l'ho da darglielo di cambio, per cui o lei mi paga o compra qualcosa per superare i 20 dollari, allora fai, non so, 20 dollari e 50, allora gli dai 20 dollari, poi i 50 centesimi li paghi col banco, ma usi il banco in Bolivar Venezolano per pagare i resti, cioè per differenziale, e in più ti obbligano essenzialmente a spendere quello che fa anche incavolare la gente, ti obbligano, non so, l'operaio, l'impiegato che va al supermercato e gli dicono, io non ho da dargli il resto, non so, la spesa era il 13 dollari, magari forse con fatica gli do un biglietto da 10, per cui 3 me li paga in Bolivar, oppure li spende tutti e 20, fai conto che in questo momento gli operai vengono pagati nominalmente in Bolivar con degli stipendi molto bassi e poi tutti hanno delle bonificazioni a fine mese, definiamoli cesta ticket, come si potrebbe dire all'italiana, quindi che non incidono sulle prestazioni sociali, in dollari, dove mediamente un operaio può arrivare a guadagnare fra i 40 e i 60 dollari al mese. Ho capito, Sevi, scusa, perdonami, Sevi, quindi noi quando siamo andati in Venezia nel 2007 c'era un problema gravissimo. Era il Bengodi, era il Bengodi, era il Bengodi rispetto ad oggi. Quindi eravamo messi male. Il tema sanitario, quando siamo andati in Venezuela c'erano gravissimi problemi, tant'è che noi abbiamo convinto Regione Lombardia, abbiamo mandato 50.000 euro di aiuti, di cui 25.000 euro di organizzazione, 25.000 euro di aiuti. La cosa c'è leggermente, non dico disincentivato, ma non c'è più incentivato a fare grandi azioni. La situazione sanitaria, perché in questo problema, in questo casino economico c'è il tema sanitario, c'è il Covid, quindi la gente riesce a curarsi, possiamo veramente lo spremo. Diciamo, la situazione sanitaria è veramente complicata, anche perché gli ospedali pubblici sono veramente mal forniti. Devo fare un elogio ai medici e agli infermieri venezolani che, nonostante siano assolutamente mal pagati in situazioni estreme, continuano a prestare il loro lavoro, la loro assistenza ai bisognosi. Dopodiché, l'altro aspetto è che una volta più o meno le cliniche private funzionavano ed erano, non ti dico, affrontabili, cioè affordable, facili da poter gestire per una persona con un'assicurazione locale. In questo momento i costi delle cliniche stanno arrivando a livelli quasi nord-americani, ma stratospecie. si fa conto che una giornata di ospitalizzazione in una clinica in questo momento si avvicina agli 800-900 dollari al giorno, senza intervento operatorio, per cui devi avere assicurazioni veramente molto forti in divisa. E come ti ripeto, si è tutto dollarizzato. Quindi è una situazione pazzesca. Passo la parola a Sevi. Sevi, parliamo ancora del tema sanitario perché si è creata una rete di solidarietà che con grave difficoltà addirittura passano attraverso vari canali ufficiali ufficiosi. C'è stata una mobilitazione della diaspora venezuelana, anche dittolo venezuelana, per mandare medicinali. Però, sempre parlando con i funzionari del Ministero degli Esteri, si diceva che bisogna creare canali ufficiali perché si rischia poi di creare dei problemi perché non arrivano le medicine, eccetera, eccetera. Come rete, diciamo, democratica qui in Italia, com'è la situazione per l'aiuto delle comunità all'estero? Perché qui, oltre che fare politica, la gente chiede anche degli atti concreti. Qui, senti, io sono orgoglioso delle tante associazioni italo-venezuelane in Italia, da nord a sud, perché le vedo settimanalmente, ricamano fondi, diverse associazioni, alcune con medicinali, alcune associazioni spediscono adesso col fatto del covid, tute, mascherine, ma questa è una cosa proprio a livello settimanale da tutte le associazioni diverse e tutti arrivano a diversi posti diretti, porta a porta, per questi canali che ovviamente non puoi andare tramite il governo perché qualsiasi volta che si sono mandati, si sono arrivati aiuti umanitari tramite il governo, se lo prendono loro e poi lo gestiscono loro, li rivendono e cercano di controllare la gente. La sanità lì adesso, Giovanni parlava delle cliniche private, però gli ospedali pubblici, che la maggior parte è quello dove potrebbero andare, ieri sera hanno fatto un servizio su CNN, che l'abbiamo guardato io e mia moglie, mia moglie è austriaca, quindi quello che conosco del Venezuela è quello che gli dico io, lei non ci poteva credere questo servizio, hanno fatto vedere due o tre ospedali, dei principali ospedali, di proprio piani completi degli ospedali chiusi, acqua intermittente, elettricità intermittente, e hanno fatto vedere proprio che questa è la realtà, cioè è bello che l'hanno fatto vedere su CNN, io da anni che, anche sicuramente Stefano, che li vediamo, i video che ci arrivano da testimoni, i bagni, cioè tutto rotto, senza acqua, non c'è pulizia, che di fatti gli stessi dottori che hanno intervistato hanno detto che molte persone, addirittura col Covid, preferiscono, rischiano di restare a casa e non di venire all'ospedale, perché all'ospedale molte volte non muori dalla malattia, ma muori dalla contaminazione, quindi la situazione sanitaria in Venezuela adesso è terribile. Io, contentissimo e orgoglioso comunque della diaspora, di tutte le associazioni che fanno il loro dovere da qua, per cercare di aiutare il poco che si può. Luciano, adesso ti lascio parlare te, dopo arriviamo al finale. Luciano, il Brasile, no, hai detto bene, il Brasile lì vicino, ho visto delle scene dove vi erano delle mamme venezuelane che venivano a partorire in Brasile, cioè la prima cosa che i venezuelani cercano, cercano magari solidarietà e aiuti anche dei paesi vicini. Qual è la politica dei paesi vicini al di là della contrapposizione che abbiamo visto con il governo di Maduro? Vi sono aiuti umanitari, vi sono interventi anche della gente o che è un'indifferenza? No, il governo brasiliano è intervenuto completamente, massicciamente oserei dire, con tutta la gente che arrivava da Venezuela, circa due milioni, però la maggior parte, che dovrebbero essere intorno ai tre, per motivi logistici, sono andati in Colombia. Il Brasile ha mandato anche direttamente o attraverso la Croce Rossa, ha cercato di inviare camion di aiuti sanitari soprattutto e di beni di consumo, cioè tipo cartigenica, tipo cose basiche, ma sono stati bloccati alla frontiera perché i militari volevano prendere il camion, mentre il governo brasiliano ha detto no, noi entriamo, ci scortate, arriviamo fino al posto dove dobbiamo scaricare, perché in Brasile si sa benissimo che Maduro, per mantenere il potere, ha dato in mano la gestione dei farmaci e degli alimentari a determinati capuccioni, diciamo, dell'esercito. È così che lui tiene il potere. Inoltre è interessante, l'ho accennato prima, il coinvolgimento di Cuba, che non è da poco, perché il Venezuela è uno dei pochi paesi rimasti che dà da mangiare a Cuba. Questa è la verità. E infatti, da servizi segreti brasiliani... Cuba è un bar americano dal 1959, comunque non credo che possa dare così tanta mano a Venezuela, un paesino come... No, come dicevo, no no, come dicevo prima... Infatti lui conferma questo, è Venezuela che sta aiutando Cuba. Sì, sì, è Venezuela, però Cuba dà come aiuto i servizi segreti che sono gestiti da cubani, sono gestiti da cubani. Comunque lasciando perdere questo aspetto qua, il foro di San Paolo, cioè se uno non conosce il foro di San Paolo, non riuscirà mai ad avere un'immagine completa di cosa diavolo succede in America Latina, non da adesso. E perché è stato costituito, cioè è stato costituito, scusate, il foro di Lima, dove c'è dentro il Brasile, c'è dentro la Colombia, c'è dentro il Paraguay, c'è dentro... e perché il Venezuela è stato tagliato fuori dal Mercosur. Per un discorso che il Brasile ha appoggiato completamente gli Stati Uniti su questo, Giaco Obama, sui diritti dell'uomo. È interessante che a Bachelet, Bachelet adesso non mi ricordo come si sa, ex Presidente del Cile, che è quella che ha fatto la dichiarazione... Bachelet, Bachelet, esatto, non sapevo come pronunciarla, è bellissima di Chavez e di Fidel Castro. Cioè lei attacca Maduro proprio sui diritti dell'uomo, cioè lì la politica non c'entra più assolutamente una pizza. L'America sta d'occhio al Venezuela anche per un altro motivo, che due anni fa a Miami i due nipoti, diciamo, prediletti di Maduro sono stati bloccati a Miami con 800 kg di cocaina. Cioè siamo fuori dagli standard, cioè per capire Venezuela, secondo me, certo poi i signori ne sanno più di me, ma bisogna pensare la Bulgaria al tempo dell'Unione Sovietica. Due partiti di sinistra, che qua in America Latina sono di sinistra, ovvero il PT e il PSOL, hanno ampiamente dichiarato che è stata una votazione democratica. Qua vi dico come girano le teste. E la situazione, come si dice, che mi ricorda di più l'attuale Venezuela è la vecchia Bulgaria, come si voltava in Bulgaria, se ve lo ricordate. Bene, bene. Grazie Luciano. Ecco, no, ultima cosa. Il Brasile, insieme alla Columbia, hanno proprio, c'erano molte pressioni, anche da venezuelani, su un'azione armata contro Maduro. Ma Maduro ha riattivato le FAIC, prima cosa. E seconda cosa, se uno conosce i territori dell'America Latina, iniziare una guerriglia o una guerra che si vuole, in America Latina, non è come in Europa, non è come nel deserto. Cioè, dura altri 50 anni se inizia una cosa così. Proprio per le strutture della giungla, della foresta. La struttura è quello che abbiamo visto in Colombia. Ti ringrazio. Sì, volevo dire una cosa veloce. Mi pare che Ketty prima ha detto, lei quando vede Maduro pensa alla sinistra e adesso si parlava un po' di sinistra, il foro di San Paolo. La mia domanda era molto concreta, ha capito? Cioè, volevo proprio capire, siccome molti pensano questo, volevo proprio sapere la sua opinione su questo. Esatto. No, perché hai detto una cosa molto giusta, specialmente in Italia, quelli che non conoscono bene la situazione, quando pensano a Maduro pensano alla sinistra, quando pensano a Guaidó, questo è di destra. Esatto. E invece, allora, né Maduro è di sinistra, né Guaidó. Guaidó che dopo, adesso, dall'inizio di quest'anno, si è voluto allontanare dal partito per non avere il partito politico dietro ed essere indipendente come presidente dell'interim, Guaidó viene da Voluntat Populare. Voluntat Populare è un partito che fa parte dell'internazionale socialista. Ok. È un partito di, sì, sinistra, centrosinistra, però niente a che vedere con la destra. Leopoldo Lopez, che tanto lo criticano, che è di destra, terrorista, quella, centrosinistra. L'internazionale socialista, mi sembra ieri o avanti ieri, ha cacciato un documento parlando delle elezioni del 6 dicembre che non le riconoscono. Quindi non è un concetto di destra e sinistra. Maduro è stato bravissimo, già da Chávez, sono stati bravissimi a fare questo discorso, questa propaganda di far credere che loro sono la sinistra e che tutti quelli che gli vengono contro sono della destra. E non è vero, non è così. Ci sono i democratici e i non democratici, semplifichiamo. Ci sono degli oligarchi e dei democratici. Ultima domanda, molto veloce, con risposta veloce a Esteban. Esteban, si esce dal pantano e dalla crisi gravissima del Venezuela, se escono gli interessi delle potenze internazionali con una soluzione interna o finché non si mettono d'accordo le potenze che sono intervenute, Cina, Russia, magari anche gli Stati Uniti esternamente, il Venezuela rimane così? Iniziando proprio da quella che è la divisione tra quelli che comunque promuovono l'ordine liberale in cui siamo ora, che sono gli Stati Uniti e l'Unione Europea e poi i revisionisti come la Cina, l'Iran e la stessa Turchia e altri stati che poi non si fanno guidare molto dall'ideologia ma proprio dall'imposizione militare sui civili e vediamo che comunque alla Cina stessa prima o poi converrà a riscuotere il proprio credito, perché sono tanti i soldi che ha buttato via e in questo tempo vediamo che il governo fa partire il canto. Si ricordiamo che c'è un prestito enorme della Cina al Venezuela. E così come agli Stati Uniti non conviene certamente destabilizzare l'emisfero americano per non ricreare appunto un ulteriore sentimento anti-americano come quello che si è venuto a ricreare spesso ogni volta che gli Stati Uniti hanno messo il piede ovunque, premesso che negli ultimi anni 90 li hanno chiamato gli altri, non hanno voluto intervenire loro, parlando dell'ex Jugoslavia, della guerra in Bosnia, della Somalia e della guerra nel Golfo, sono stati chiamati loro in causa dagli altri. Diciamo che di iniziativa loro, di solito loro non entrano mai, però ci deve essere una convergenza dal momento in cui è tutto un continente che si destabilizza con tutti questi flussi migratori e prima o poi conviene che certamente il Venezuela rientra a pieno titolo nella comunità internazionale. Per questo però l'opposizione deve tornare ad essere affidabile, qui faccio un'autocritica, perché diciamo che fino a questo momento siamo stati trascinati proprio dall'immediatezza, certo l'urgenza della crisi ci porta a voler uscire ora dal regime, però diciamo che è più necessaria una politica di processi. E cosa intendo con processi? Una politica che si basi nel lavoro quotidiano, nel giorno dopo giorno, che sia più fondato nel riconquistare la società civile a partire dalle nuove generazioni e soprattutto dalle nuove generazioni, anziché cercare di allocare persone o candidati all'interno di contenitori che poi rischiano di dividersi. Torniamo al discorso essenziale e qui mi chiudo. Io sono d'accordo con Sede, se qui non si accetta una transizione non si va, transizione che non sarà perfetta, però rispetto a uno stallo che porta ormai il paese in rovina totale è meglio una transizione. Proprio perché l'opposizione, come dici tu, l'opposizione, una volta lo dissi in un discorso lì, non può e non possiamo imitare i mostri che cerchiamo di combattere, perché se noi cerchiamo di combattere coloro che negano gli altri, ma allo stesso tempo neghiamo il povero che alla fine non ha mai visto nulla, ma diciamo che ha imparato solo quello e a ripetere due slogan, l'unica maglietta che ha è la maglietta rossa da indossare con il volto di Chavez, noi dobbiamo andare a combattere, ed è qui che entra la politica dei processi, le cause strutturali che fanno sì che quel povero, per ora come ora, non viva altro e non pensi altro. E quindi è qui che l'opposizione deve puntare, iniziare a puntare sul lungo periodo, anziché sull'immediatezza che purtroppo ha fatto valire molti progetti in America Non c'è una soluzione nel breve periodo, saranno processi estremamente lunghi, vi ringrazio che ti siamo arrivati alla conclusione in una situazione molto sudamericana che è molto complicata. Daniela, scusa, una cosa veloce, non so se sapete che come risposta al processo del fraude del 6 dicembre, adesso dal 7 al 12 stiamo facendo una consultazione, una specie di referendum, si chiama la consulta popolare, a livello mondiale. Ci sono tre domande, per ora è iniziato il 7, sembra che va benissimo perché si sta facendo... Le tre domande cosa si domanda? Allora, praticamente la prima domanda è di voler uscire all'usurpatore maduro, poi c'è la domanda delle elezioni del 6 dicembre che non si riconoscano a livello internazionale, e poi la terza domanda sarebbe che questa è stata proposta dai giovani, praticamente un ordine, ordina alla comunità internazionale di far sì che tutti i meccanismi, i metodi che ci siano per poter aiutare al Venezuela, aiuto umanitario e tutto il resto, che si comincino a muovere. Sono tre domande importanti, è un referendum che nasce dalla società civile, è anche sostenuta dai partiti politici, dal governo, dall'Assemblea nazionale, però è nata proprio dalla società civile, che sembra che va abbastanza bene, quindi ti aggiorneremo il 12 che sarà l'ultimo giorno. Una domanda su questo tema, che garanzie riuscite a dare a chi parteciperà a questa consulta popolare premesso che il livello di infiltrazione che ha sempre avuto l'opposizione venezolana, che lo sapeva prima il governo che la stessa posizione è quello che avrebbe fatto, che non si finisca in una seconda lista a Tascone, che il povero pirla che vota si ritrova a questo punto, anche che gli arriva in casa la DC o quello che sia. Allora, ricordiamo che quelli che avevano votato contro Ciave erano due o tre milioni, sono trovati in un elenco pubblico pubblicato su internet. Bene, io direi di proseguire in una fase successiva, perché siamo andati avanti moltissimo. Sì, Daniele, intanto grazie comunque a te, perché in effetti come giornalista italiana è vero che a me piace molto la sintesi, quindi la mia domanda era molto precisa su destra e sinistra, perché riconosco che non è semplice parlare in questo modo, per quello che riguarda l'America Latina, però effettivamente dei chiarimenti a chi poi noi andremo a raccontare questa serata, questo nostro incontro, io dovrò riportare, quindi è evidente che voglio capire effettivamente anche un po' di cose così, diciamo più immediate e concrete. Grazie veramente a tutti voi, grazie a Esteban, grazie anche a Luciano e a Giovanni. Insomma, noi ci vedremo sicuramente ancora, perché questo è veramente un momento molto molto duro per tutti noi a livello mondiale, per quello che riguarda la crisi economica e sanitaria, però comunque è molto importante anche capire quello che succede dal punto di vista sociale e economico in America Latina. Grazie ancora a tutti voi. Grazie, noi ci ricerciamo. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.